L'indagine nasce da un'attività info-investigativa svolta dal comando nucleo-polizia tributaria che dalla dichiarazione rilasciata da alcuni commercianti catanesi che da anni venivano sottoposte a attività usuraia e estorsione da questi cinque soggetti che operavano nei quartieri civita, altri quartieri centrali di Catania. Le indagini sono avvalse sia di attività tecniche, video, intercettazioni, sia peditamenti e sopralluoghi sui territori. Hanno consentito di individuare i soggetti indagati, i ruoli svolti dai singoli, nonché il tasso di interessi che arriva fino al 160% annuo praticato per le somme prestate. In particolare l'attività investigativa ha consentito di individuare 25 casi di usura e quindi individuare i soggetti usurai. Altri soggetti sono in corso di identificazione. Nel corso delle perquisizioni che sono state svolte la mattina e odierna a casa di un indagato è stato rinvenuto tutta una serie di schede in cui erano riportati i nominativi di soggetti usurati con l'importo delle cifre prestate e i tassi di interesse praticati. Le singole rate che erano state fino ad ora riscosse è quello che rimaneva ancora da pagare. Sì, attraverso le intercettazioni effettuate ci siamo resi conto che una vittima di usura era stata raggiunta fino anche dentro una chiesa per essere sottoposto ad attività estorsiva. Inoltre un soggetto si utilizzava anche un figlio minore per andare a riscuotere le rate dai vari soggetti vittime di usura. Grazie. 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 Grazie.